Questo giocatore è entrato nel mio server survival e ha costruito questa casa fatta di terra nel mezzo del nulla Ho visto che stava raccogliendo del grano e quindi mi sono messo a controllare la sua cassa Dentro c'era solo della terra Quindi mi sono tolto la vanish e ho iniziato a colpirlo Lui era felicissimo di vedermi Quindi gli ho regalato un set di armature e armi potentissimo E dopo gli ho dato anche dei blocchi da costruzione Così che possa farsi una casa migliore di questa Qualche ora dopo mi sono tippato di nuovo dal giocatore e aveva costruito una nuova casa C'era anche un baule con un cartello dove mi ringraziava dei regali e mi ha lasciato dei totem Nel cartello c'era anche scritto che non sarà online per circa due settimane Quindi ho fatto in modo che ad ogni like sponi un totem nella cassa